Grazie a tutti Sì. Amici della radio, la buona giornata aggiunga a voi, da Paolo Di Lorenzo, saluto cordialmente il fratello Pagione e l'onore Brigliadori, oggi è la prima domenica del 1993, 3 gennaio con freddo polare in tutta Italia, per chi è sintonizzato sul Radio 1, modulazione di frequenza, ricordo che tra poco avrà inizio Stereo Rai. Vi aspetto in 2014, infatti per una combinata di musica e notizie arriveremo fino alle 14.20, momento in cui la testata giornalista sportiva presenterà tutto il calcio minuto per minuto. Sì. 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 picchia coi testi, forza colpisci mi che sono pronto e me lo so più nemmeno, questa è la scuola suonaci, suonaci, penso che sei metteci l'anima cominci a metterti a fuoco e poi non so suonare ma so pagare bene sigaro e grappa tutto ciò che vuoi io sento a stappo oh 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 non stai nemmeno non stai nemmeno meri cresci meri cresci meri cresci buona 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.